La tetto del mondo ed è una doppia, bellissima Italia, ultime bracciate per entrambi, Gregorio Paltrieri è sempre davanti, non molla un centimetro, impazzisce lo staff azzurro travolgendo tutto e tutti sul lato spiaggia, Gregorio Paltrieri è campione del mondo, Gregorio Paltrieri sale sulla tetto del mondo nella 10 km, consacrato definitivamente, ancora una volta il re delle distanze lunghe, è successo qualcosa di pazzesco. Una doppietta inimmaginabile alla vigilia e non accadeva dal 2010 che l'Italia andasse a vincere una mondiale sulla distanza olimpica per domenico a Cerenza, si tratta di una medaglia che ricorderà per tutta la vita per Gregorio Paltrieri.